Dopo un'estate difficile, la Libero Volley riprende la sua attività agonistica per il trentesimo anno consecutivo. Le squadre sono state presentate in una serata alla sede della FEMPLEST di Ascoli Piceno e oltre all'attività agonistica ci sono altre attività a corredo come la donazione con l'Avis e anche la formazione di una squadra vintage, la Libero Vintage, formata dai genitori dell'atlete. Graziano Vanni, responsabile del settore giovanile della Libero Volley dal 1984. Come è organizzato il settore giovanile della Libero e se ci sono delle novità rispetto agli anni scorsi? Allora sì, siamo organizzati in questo senso, abbiamo il Micro Volley, sono le ragazzine più piccole, quelle di 6-7 anni. Poi c'è il Mini Volley, ragazzine che fanno la terza e quarta elementare. Ci abbiamo due Under-13, poi abbiamo un Under-14, poi abbiamo la seconda divisione che fa sia la seconda divisione che Under-16. Quindi sono tutte le ragazzine giovani che fanno doppio campionato, Under-16 e seconda divisione. Dopodiché abbiamo la prima squadra, Serie C, che la novità è questa. Le altre sono tutte nel nostro settore giovanile, quindi tutte le ragazzine che hanno fatto tutta la tre fila, Mini Volley, Under-13 e quattro anni, sono passate in prima squadra. Quindi siamo orgogliosi di questo perché siamo tra le poche società che hanno quasi tutta la prima squadra del settore giovanile. Questa è una soddisfazione. E' anche un po' una valvola di sfogo la sera, andare a fare allenamento, condividere due orette e mezza di allenamento, le trasferte e tutto. Come fa una società di volley in provincia ad andare avanti per 30 anni interrotti? Diciamo che ci sono molti sacrifici da fare, anche perché chiaramente per stare a certi livelli occorre sia il materiale umano, quindi le ragazzine, perché noi partiamo con i settori giovanili che poi crescendo le portiamo in prima squadra. Però è difficile anche reperire le giovani perché c'è molta concorrenza, perché gli sport sono tanti, quindi è sempre più difficile, chiaramente, per mantenere tutta una società dove ci sono circa 150 atlete e facciamo 12 campionati tra attività giovanile, intermedia e la prima squadra. Quindi sacrifici sono tanti, però ormai sono tanti anni che stiamo nel campo e cerchiamo di barcaminarci, con tanti sacrifici, molti sacrifici. La libero volley punta comunque a mantenere il suo livello nella categoria, in primis, e poi quello che verrà, logicamente, tutto guadagnato.